Udito questo, il re Erode si turbò e con lui tutta Gerusalemme, e chiamati in segreto i magi, vuole sapere da loro minutamente da quanto tempo la stella era loro apparsa. Poi, inviandoli a Betlemme, disse, andate e fate dirigenti ricerche del fanciullo, quando l'avete trovato, fatemelo sapere affinché io pure vada ad adorarlo. Ed ecco la stella, che avevano veduto in oriente, li precedeva, finché giunta sopra il luogo ovvero il fanciullo, si fermò. Vedendo la stella furono ripieni di una grande gioia, ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Aperti poi... Sì, entra... Sì, entra... No, facciamo giro al contrario, a meno che non fanno la fila, dai! Sì, entra... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto ti voglio bene È Natale, è Natale si può fare di più È Natale, è Natale si può amare di più È Natale, è Natale si può fare di più È Natale È Natale, è Natale si può fare di più È Natale, è Natale si può fare di più È Natale, è Natale si può fare di più